Sono profondamente legato a questa terra di cui ne ho tratto un'affascinazione nell'avventura politica. Politicamente lo trovo un laboratorio straordinario, in questo momento sto, una grandissima opportunità per la stragrande maggioranza dei calabresi che è fatta di persone per bene. Ovviamente ci ho dovuto pensare dei giorni perché è una scelta personale importante, è un ritorno in una terra che mi ha dato tanto affetto ma di cui alcuni calabresi mi hanno anche prodotto ferite mortali. Cacciandomi da questa terra perché investigavo sui poteri criminali, quindi è una scelta personale difficile. Per oggi sono contentissimo di averla fatta in questa direzione e quindi cominciamo questa avventura che può far diventare della Calabria un laboratorio forte di un sud autonomo che non va più col cappello in mano. Ho molto rispetto per i partiti, ma non penso in questo momento ai partiti. In questo momento penso alla gente a costruire una coalizione civica, un po' anche quello che ho fatto a Napoli in questi anni, cioè dimostrare che si può governare con le mani pulite, in maniera autonoma, con la gente, coniugando rottura del sistema e capacità di governo. Quindi quello che ho in mente è la rottura di un sistema politico che ha soffocato la Calabria con persone, ovviamente di questa terra, che hanno capacità di governo. Poi è chiaro che potrà capitare che dialogheremo con i partiti, ma non penso a un'alleanza di quel tipo, non sono il candidato del centro-sinistra, non sono il candidato della liturgia vecchia della politica. Questa deve essere un'esperienza rivoluzionaria, non è un'esperienza come un'altra.